Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! 5 dicembre, voglio vedere oggi che cosa uscirà. Apro subito. Il pacchettino è leggero e la carta si sente anche che è scricchiola. Chissà cos'è. Ma è uno spruzzino! Troppo bello, non ce l'avevo così. Mi piace un sacco. A differenza degli altri spruzzini, questo osservatoio è morbido e flessibile. È troppo carina, non ce l'ho mai avuta così. Troppo bella, sono contenta. Mi piace anche i colori. Questo è un regalo molto utile, ma devo stare attenta a non lasciarlo in giro. Altrimenti Giuliano e Gino se lo mangiano e lo rendono uno scolapasta. Spero che questo tipo di video vi stia piacendo. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo domani. Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.